Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati sul mio canale Vi rubo soltanto qualche secondo per comunicarvi una piccola notizia Con buona probabilità, salvo imprevisti ovviamente Nel mese di novembre si terrà una fiera internazionale di videogiochi a Roma La International Game Rom Alla quale andrò a partecipare per mostrarvi più o meno Quello che la fiera mostrerà Ma è una mostra mostrarvi, vabbè Penso sia un'idea carina per chi magari vorrebbe poterci andare ma non ne ha la possibilità Essendo proprio a due passi come nel caso di Noi Sardi E mi piacerebbe portarci anche qualche video sopra magari Altro motivo per cui ho fatto questa breve introduzione Sono le scuse che vi devo per l'inizio del video In cui non guardo in camera per presentarvi il gioco Anche perché ero riduce da una serie di problemi tra registrazione, settaggi e chissà cos'altro In quanto eravamo in tre a registrare per la prima volta E diciamo che stavo facendo un po' da guida al tutto Detto questo fatemi sapere sempre cosa ne pensate con un commento Lasciate un mi piace e buona visione No non ne dico parolace Il copyright ci chiedono entrambi Youtube a te e Pidipoian Veloce Oh fichi adesso io a 20 minuti di registrazione Ciao a tutti ragazzi bentornati nel mio canale Oggi siamo su Minecraft Per la prima volta del mio canale spero Perché non ne voglio fare altri con questi due elementi Oggi siamo con FaderGamer e Pek3 Siamo su Minecraft ma io non ci so giocare Quindi almeno non ci so giocare dal PC E quindi sono con questi due pro player Esatto Io sto saltellando intanto su quella Che mi spiegheranno più o meno come giocarci un multigiocatore Cosa poter fare con loro E le varie modalità che ci sono Dovranno spiegarmi anche i tasti perché non sono neanche quelli teoricamente So come muovermi e girare la visuale Dai io direi di andare subito a giocare Allora ci sono i survival games che non facciamo I minigames, la skyblock, i lotti, i survival La tower defense, i quake, i race No, non ho niente Sai enough line The lucky wars, no zero Ci siamo tutti facciamo Sky wars Sky wars o lucky wars Sky wars Scegli un nome Lucky wars o sky wars Allora uno vuol dire lotte di guerra No Che genio si si Boh Quella in cielo Dai sky wars Bello Mi piace Ok Mi piace molto Ma dove siete Allora io sono qua Affianca a te Dennis lo vedo ancora lo spawn Zio ci credi che non ti vedo Al tre ci buttiamo Una Due Tre Ok Aiuto Ok cosa devo fare Dennis Feder ci siamo tutti Allora devi votare adesso Vuoi lo shop Io ti consiglio no perché tutti si cooperano le enderperle e vanno sul centro Esatto Ti consiglio Però ti consiglio di votare le gestioni UB che sono quelle a destra E poi se le si Come Come voto contro Il rosso In basso In basso a sinistra Clicca il rosso in basso a sinistra e verde in alto a destra Ok Ah ok Dennis gira ti mi vedi che sono accanto a te Facciamo team No Ah ok si Ti vedo Cosa devo fare Come si Come si Come si prendono le cose Allora De Ehm Ehm Ma no c'è Col tasto destro Oddio Col tasto destro Ehm Prendi I pezzi e te li metti Con Oppure Tipo per esempio l'armatura Oppure piazzi i blocchi Ok Invece col tasto sinistro Rompi Sto dicendo nella Nella chest Ok Premi il tasto Destro Sì destro Eh Lo prendo in mano Poi cosa devo fare Questo tu non lo sai Giusto Eccomi Dennis Allora Ah Sono io Sono io Ok Ok Sto ancora leggendo Leggendo le chest Ok vabbè dai Cosa devo fare Allora Io stai spiegando Allora Prendi la cassa Cioè apri la cassa E clicca con shift E tieni premuto shift Ok Poi clicca con il sinistro Allora Dobbiamo cercare di riunirci Perché comunque dobbiamo stare assieme E assieme rompiamo tutti Ok E poi vabbè Andiamo al centro Ci riforniamo E diventiamo P E ci sfidiamo tra di noi No Raga mi hanno Giù Ok Dennis Siamo solo io e te No sono morto Me l'ho tolta Vinci adesso io a 24 No vabbè dai Fai 20 minuti di registrazione Vai Aspetta Ok buttatevi Buttatevi vai 1 2 3 Denix Fader ci siamo Ci siamo Eccoci Eh questo è bello Allora mi vedete Questo no E questo si Fere ti ho fianco A destra o sinistra Ho fianco Sinistra Tu Sono al lato a destra Affacciati All'isola di destra E guarda Fere girati Girati dall'altra parte Che ci sono io Sei nella casa gialla Io non ho la casa verde Raga io sono praticamente full diamond E ho uno stack di chest Io sono full diamond Eccola questa cazzo di porta Mamma mia Ma dove l'hanno messa Wow Chi è che mi sta rompendo la lana C'è neanche una chest Raga qualcuno di voi mi sta rompendo la lana Bravo coglione Bravo Aveva le ender pearl Che cula Oh ma una cazzo di chest Ecco Oh Ho 64 frecce Anch'io ho 64 frecce Oh Fere mi copri Arriva Muoviti Allora De Io sono Chi c'è quello Ah ok sei tu Ti stavo per buttare Madonna Giuse Sono arrivato Sono arrivato Eh Giuse Venite da me Che ho armor Spade per voi De aspetta che prima Mettevo poco poco acqua Dennis pronto Mi devi coprire Non c'è niente Tranquillo Vai vai Stavo cadendo malamente Ho sbagliato il tasto È difficile Dalla tastiera Vai Dennis Corri Ci sei Ecco qua Era già dietro di te Tutto il tempo Siete voi che state rompendo il vetro Si Ma cazzo ce l'hai la porta Guarda Hanno chiccato uno per le hack Voi la E sono io Sopra Sopra Salite sopra Che palle Minca A dirlo Sta cazzo di porta Ah ma c'era un accesso anche lì Si Perché non l'ho presa nella mia casetta Vabbè tanto abbiamo il ponte quindi C'è gente che scrive shish Tutte le cose che potete prendere Allora il piccone mi serve Ah ok questi me li prendo Basta pure Magari ne ho uova Mi diverto a lanciarle Nell'altra dov'è? Allora è quella di giù l'altra Con la fianco Le stringhe Ah ok non l'ho vista De apri l'altra cassa a fianco Che cazzo stai facendo? Fede Ti stai pisciando addosso? No bocciati di esperienza Solo una stringa Vabbè val tifo No Guarda che puoi rompere qua Mi manca una stringa rega No questa è Fede Ciao dietro di te Dietro di te Grazie Prego Batte il 5 Ah scusa De apri qua De apri questa cassa Che c'è un pezzo di armor per te Che cosa? I pantaloncini Ce li ha già Magari non li ho messi Sì ce li ho Sei nudo De Guarda che io ho tutto Adesso Adesso Mi manca soltanto la pettora La pettora La pettora La pettorina Ti manca la pecora Stavo dicendo pettorina Solo che mi è sembrato un po' brutto Perché sembrava pecurina Quindi mi sono bloccata a pettora Allora ragazzi Ne manca una Ed è al centro Andiamo anche noi Blizziamolo Blizziamolo malamente È lì che sta arcerando Contro di me Io l'ho preso già un paio di volte Lui mancò una È storto perso Abbiamo un cecchino Abbiamo un cecchino Beh ma sei pazzo Stai qua Ha l'arco con potenza Mi sa eh Sì sta prendendo me Però non è molto bravo Non è storto Storto Dai che ci riesci Dai che ci riesci Dai che ci riesci Raga alla spado P Alla spado P Sono morto Raga Non mi avete dato l'ender Per l'anno Grazie Mi hanno buttato due Dennis ne aveva una Due È minimo No non ce l'ho l'altra Occhio raga no Occhio Ma anche Fornitevi raga Perché questo ha la spado P Bastardo Occhio Ma lui è da quella parte Burrico Attento che cadi Ma perché esplode tutto Non lo so È esploso Da però ragazzi Siete due scemi Dovevate pasarle A tutti Ci saremmo lanciati insieme Invece no Siete partiti subito In quinta abbiamo perso Questo è il tipo che ho deciso prima Mi sta shiftando Tre Due Una Via Oh bella sta mappa Allora Danny si affianca a me Perfetto Dei salta Ok perfetto Si affianca a me Si ti vedo Io non ho nessuno eh Ok Ma tu sei quello forte Allora Se ho enderbell Vengo da te Ok Io questa mappa Ho un appartamento Lussuoso Tanto ho il rischio Di sbattere su questo Cazzo di microfono Ma Oddio io ho enderbell Ok Allora vieni da me Quanto ne hai? Quattro Ok Si Allora devi vieni da me Ok Farà schifo Sicuramente Vero L'ora era il materiale più burro Se mi ricordo E' uguale a legno Minchia utile Raga Porca Si Ok Ok Perfetto Ok Ok Raga Allora Questo non aveva enderbell Sono un attimo nei guai Perché mi son buttato a uccidere un tipo Però Non aveva enderbell Quindi Sono rimasto un attimo nei guai Ok Vieni da me Ok aspetta Se capissi come uscire da quest'azzo Dove potessero Metto poco poco acqua nella mia isola Così almeno riuscire a morire E' vero anche io lo devo fare Non ho preso il piccone Basta Sono troppo veloce No 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 Raga Uccidete Mighty Come hai fatto Lo vedo Un bastardo Mi ha buttato giù Ero fu Vabbè Tanto non ha un cazzo Dei uccidere Eh ma Eh certo Quello con Antic Knockback Ma l'avete visto De De Si butta Si butta da te No 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 Si butta da te Occhio E' caduto De Uccidi Si Buttati No 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 Nel piano di sotto Buttati e uccidilo Tanto non ha nulla Vai 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 Buttati e uccidilo Ah Vai 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 Non tornare indietro De ma sei al centro No sono morto Non ci capisco un cazzo Con i tasti Ma eri al centro De No Era la mia casa Fede Sai perché stavo tornando indietro Perché ero convinto Di andare avanti Nella mia mente Io stavo Qui Dicando il tasto W Perciò Stavo andando avanti Io sono ancora vivo Eh Eh ma non ti vedo Lo sciamo Eccolo qua Sta a facere un pillare Di terra E lo shift Si bagga Mincia Bellino Io spacco la tastiera Minca si bagga con lo shift Vaffanculo Beh Mi sa che la possiamo Mi sa che la possiamo Chiutere qua Va No 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 Però con questa clip finale Dai a me è stato divertente Ma ma bacca Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento E un mi piace In descrizione troverete Il link di questi due Baggarospi Usciranno dei video Anche nei loro canali Si presume Si Si vedrà Eh Noi ci rivediamo In un prossimo episodio Ciao Bello